ciao ben ritornati su questo canale oggi vi voglio parlare di come fare un ottimo stipendio da dipendente un dipendente metalmeccanico io sono un dipendente metalmeccanico e riesco a fare anche 3 4 mila euro al mese ora vi spiego subito perché senza girarci tanto intorno vi dico la soluzione è quella di fare il trasfertista ma chi è un trasfertista un trasfertista è una persona dipendente in questo caso che dà la disponibilità ad andare in trasferta le trasferte possono essere sia in italia che all'estero ma che cosa fa un trasfertista beh la parola già spiega che cosa farà un trasfertista alla mansione di andare o in italia o all'estero in missione per conto di una ditta per missioni si intende andare da un cliente che sta lontano dalla ditta a fare delle operazioni che possono essere di vario tipo sia dal commerciale che dal tecnico svolgere la propria mansione per il tempo necessario e poi ritornare ma quanto viene pagato fare una trasferta ovviamente fare una trasferta implica un impegno molto forte da parte del dipendente e questo normalmente viene retribuito in un modo secondo me anche abbastanza adeguato ma come viene pagato una trasferta una trasferta sostanzialmente viene pagata con la propria gustapaga quella normale che sia da operaio o da impiegato per il proprio livello più una diaria la diaria può variare molto a secondo della ditta a secondo della propria mansione però è una quantità di denaro che ti viene data per ogni giorno che tu stai fuori ovviamente a questo c'è anche da sommare le ore di straordinario che probabilmente dovrei fare perché normalmente quando si va in trasferta si tende a tenere la persona fuori meno tempo possibile e quindi si vanno a sommare un po di ore ti vengono pagati i pasti eventualmente viene pagato un auto un mezzo per potersi spostare salvo che non si parta già dall'azienda con un mezzo aziendale biglietti del treno biglietti dell'aereo tutti quanti quello che serve per lo spostamento generale che si deve fare la retribuzione di aria può variare molto ad azienda azienda e anche da mansione a mansione considerate che per una trasferta si può variare dai 50 euro in più al giorno fino a 2 300 euro nel mio caso specifico qui posso dire che da impiegato tecnico che va in trasferta dipende sono stato via anche dei mesi interi la retribuzione era intorno dei 70 ai 120 euro dipendeva se stavo in italia o se stava all'estero e per quanto tempo stavo fuori ad oggi sono circa sulle 100 euro al giorno per stare all'estero e circa 70 80 per stare in italia poi dopo dipende molto dalle condizioni il fatto di avere delle diarie che sono più alte rispetto allo stipendio che uno prende normalmente tendenzialmente se è un operaio o un'impiegata normale non implicano il fatto che tu a fine anno possa avere delle stipendi molto elevati perché tutto dipende da quanti giorni stai fuori è un po come le ore di straordinario più ne fai e più guadagni più giorni fai all'estero o più giorni fai comunque in trasferta e più guadagni i giorni che si può stare in trasferta sono molto variabili a seconda delle aziende e delle situazioni io normalmente sto fuori dai 120 ai 180 giorni l'anno però c'è chi può stare fuori anche 200 250 giorni l'anno ovviamente con delle retribuzioni più alte un altro aspetto da considerare non è tanto i giorni durante l'anno che si sta in trasferta ma i periodi che si sta in trasferta ovvero stai fuori tre giorni poi torni poi altri tre giorni poi torni stai fuori una settimana stai fuori settimane stai fuori dei mesi è molto variabile io nella mia esperienza ho avuto delle trasferte che sono durate anche tre quattro mesi però ora ho cambiato lavoro e adesso mi occuperò di trasferte che tendenzialmente saranno di due settimane in due settimane a volte possono essere anche di un mese però non più quelle trasferte come facevo prima di tre barra quattro mesi per volta ma chi è che può fare le trasferte ovviamente chiunque io per esempio faccio le trasferte come tecnico però si possono fare trasferte come se sei un commerciale se fai parte delle ricerche sviluppo che deve andare all'estero per fare delle verifiche o qualsiasi altra mansione che può essere inerente o che la ditta richiede l'importante è dare la disponibilità ad andare all'estero o comunque andare fuori casa per dei periodi che sono congrui con quelli aziendali normalmente si ha la paura andare all'estero oppure chiedere di fare trasfertista per il discorso linguistico ovviamente se dovete fare delle mansioni particolari tipo se siete dei commercianti non potete non avere idea della lingua tipo dell'inglese o nel posto in cui si dovrà andare altrimenti non riuscite a parlare con il cliente e questo rende inutile il vostro spostamento stesso vale se siete dei metalmeccanici normali però non avete idea di che cosa sia una chiave inglese non avete idea di che cosa sia un calibro perché probabilmente renderà molto difficile il fatto di tenervi fuori magari da soli in solitudine per dei mesi a sistemare dei macchinari per un cliente quindi con la conseguenza di fare una figuraccia voi e far fare una figuraccia anche alla ditta con per cui lavorate bisogna essere molto bravi nelle lingue beh come detto prima dipende molto delle situazioni io in quanto tecnico non ho necessità di avere un fluente inglese o un fluente spagnolo o altre lingue particolari l'importante è avere una lingua base per poter comunicare di solito con un operatore o dire le informazioni base al cliente quindi come sta procedendo il lavoro se c'è un problema se ho bisogno di qualcosa parlare con eventualmente un operatore o con chi si occuperà del macchinario che sto installando quindi avere giusto un minimo di dimestichezza che però vi posso dire si può anche acquisire mentre si è lì perché comunque se in un contesto lavorativo loro non hanno la pretesa che tu sia un esperto nel loro linguaggio e quindi in bene e male se si riesce sempre a organizzare quindi sul fatto anche della lingua basta non essere chiusi mentalmente cercare di aprirsi alle altre culture è ovviamente un passo molto importante per rendere la tua trasferta molto più semplice quindi quali sono i pro nel fare le trasferte beh ovviamente quella dello stipendio avere 100 euro in più al giorno se stai fuori tutto il mese vuol dire avere 3 mila euro in più in busta paga anche se lorda al mese che non è poco in più ci mettete gli straordinari in più ci si mette il fatto che magari si lavora di sabato e quindi vedete gli stipendi che tendono a lievitare tanto quindi non è difficile pensare di prendere anche 3 a 4 mila euro al mese ve lo posso dire perché mi è capitato più volte altri vantaggi secondo me perlomeno è quello di conoscere persone e un po in tutto il mondo che è una cosa molto importante per quanto mi riguarda un po per capire cosa siamo noi come italiani all'estero un po anche per capire che cosa sono le altre persone all'estero un altro pro che secondo me è molto molto importante quello che stando all'estero vivendo all'estero lavorando all'estero alla fin fine si scopre che in italia poi non si sta così tanto male almeno dal mio punto di vista e quindi stare all'estero è una di quelle situazioni che mi invoglia a stare sempre di più in in italia un altro pro ovviamente se ti piace girare è che probabilmente va in dei posti che mai e dico mai andrai per una vacanza perché sono città ovviamente che non conosci perché sono dei posti piccolini o che hanno più un settore industriale oppure che sono un po sperduti quindi sei fortunato a poter visitare posti che altrimenti non vedresti mai né magari in televisione né sai dalla loro esistenza però ci sono anche dei contro ovviamente uno dei maggiori è che se tu hai una famiglia e devi star lontano devi metterti molto d'accordo con chi hai a fianco per poter effettuare un viaggio in serenità perché quando sei lontano e poi iniziano a esserci delle discussioni a distanza è molto difficile ed è molto poco probabile riuscire a risolverle soprattutto in contesti dove tu sei stressato o stressata per il lavoro che stai facendo per l'ora che stai facendo e dall'altra parte ti arriva da casa delle informazioni negative e quindi riesci a gestirle probabilmente in maniera molto difficoltosa quindi questo è degli aspetti sicuramente peggiori che puoi incontrare nel fare le trasferte un altro degli aspetti negativi e che se tu sei da solo quindi mettiamo che non è il problema di lasciare qualcuno a casa se hai una casa invece quella rimane vuota e quindi se rimani fuori per tanto tempo ai problemi dei tuoi oggetti personali quindi l'auto che non viene utilizzata che quando torni dopo due tre mesi te la trovi che sta purina così perché ha le ruote sgonfie magari non va neanche in moto la casa che se succede qualunque cosa tipo che si rompe un tubo o cose varie ti ritrovi la casa completamente allagata con delle bollette astronomiche e quindi devi essere ben accorto ad avere qualcuno che ti aiuta se devi gestire un immobile o un mobile in questo caso ovviamente se vivi da solo non puoi avere animali perché chi gestisce insieme ai mali da soli non si riescono a gestire quindi tu essendo lontano non ti puoi permettere di dire quando torni a casa c'è il cane o il gatto che ti saluta perché quando tornino con il cane o con il gatto non esiste più insomma dai questa è stata una breve illustrazione di quello che si può fare per riuscire a guadagnare 3 4 mila euro al mese come semplici dipendenti quindi senza laurea senza caratteristiche particolari probabilmente queste che sono informazioni che molti di voi già sapevano però se già riesco ad aiutare anche solo una persona che magari ha una famiglia ed è in difficoltà e con questo semplice consiglio riesce a trovare un lavoro per quanto tocca stringere un po i denti nel contesto in cui si trova per poter migliorare la sua condizione io sono molto contento io vi ringrazio per essere arrivati qui in fondo al video se vi è piaciuto vi prego di mettere un più piace se siete interessati ai nuovi video iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti